E' il 24 marzo 1980, sarà beatificato il 23 maggio 2015. La morte di Romero è un contesto di annuncio della fede, di annuncio di quanto la fede incide sul mio vivere quotidiano. Una fede che non incide sulla vissuto quotidiano non disturba nessuno. Quindi una chiesa che non disturba nessuno è una chiesa ininfluente, è una chiesa che è da se stessa servitivata nel privato.